Abbiamo tre ambienti di invecchiamento, il primo nelle botte piccole dove lo scopo della botte piccola è di invecchiare il vino ma anche di dare il tannino del legno al vino, le botte piccole durano solo pochi anni, guarda che bello, l'ambiente delle botte grandi sono del 2004, quindi hanno 13 anni ma durano 20-25 anni, dove l'obiettivo è solo di invecchiare e non di passare il gusto del vino, guardate che queste botti qui passate i 25 anni dopo non sono più abili per fare questo lavoro? Ma durano anche un po' di tempo, passate a cercare di entrare, incredibile, bottiglia, queste sono tutte bottiglie piene, guardate, sono tutte bottiglie piene, mamma mia c'è qualche milione di bottiglie, ma guarda qua, sì sì certo, per i nostri amici italiani, ecco qua. ecco qua Grazie a tutti.